Indico il veicolo come punto di razzinato da raggiungere. Indico una stazione di acquisto. Azione di acquisto. Puzzle Royale. Indica un punto di lancio. Conduci tu il team. Gassi in avvicinamento rapido. Andate nella zona sicura. Fuoco autorizzato su tutti i bersagli. Cassa di scorte individuata. Va recuperata. Contratto aggiornato. Nuovo obiettivo identificato. Un team nemico vi dà la caccia. Occhi aperti. Prossimo obiettivo localizzato. Mi dà andare a dare. UAP nemico in volo. Ce la facciamo con i soldi raga. Ok se ce la facciamo. Vi aspetta lo shop. Ecco la grana. Quel denaro è nostro. Ecco la grana. Procedo al recupero. Arriva un lancio d'equipaggiamento. Io riusci da te a un UAB? Sì. Vedo il denaro. Quel denaro è nostro. Indico la zona del sanguì Jaguar 3-0. Ok andiamo alla cassa. Quello serve a qualcuno. Alla cassa. 3-2. Attenzione. UAB in rientro forzato per fare rifornimento. Contratto completato. Tutte le casse di scorte trovate. Avete del gas in arrivo. Guardate i soldi da. Siete salvi. Avete seminato i seguitori. Guarda i soldi. I soldi. Qui ho una granata. Ignorare. Mi hanno colpito. Mi hanno colpito. Qui Jaguar 3-0. Confermato. Quattugliamento UAB iniziato. Mi hanno colpito. Te lo anche io per dopo. Già che stai. Ando vai in colpo. Ando vai. Aspettici. Aspettici. Tutti insieme. Tutti insieme. Moriamo. Moriamo tutti insieme. Aspetta una cosa a malavano. Gente. Quattro. Mi stanno prontando. L'aria opera. L'aria opera. L'aria opera. L'aria opera. L'aria operando. Postile in distanza. Corrozzo attacco. Nemico in movimento. Lancio d'equipaggiamento alleato in ar... UAB alleato in sorvolo. Avvio scassione radar. Ottacco di vivo. Capo di vivo. Zona da controllo. Reduzionato. Agita morta. Grosso calibro. Lì. Ostile in discesa nell'aria. Occhio in alto. Stanno sparando. Ce n'è uno qua su pro, ma va tutto. Vedo. Vedo un approvvigionamento. C'è un attimo. Burflod mi... Fucile di precisione. Prese. Fucile in avanti. Attacco il bersaglio, non tanto. Attacco il bersaglio. Attacco il bersaglio. Piazzo l'esplosivo. Sto subendo colpi. Sto subendo colpi. Ehi. Ehi. mi stanno sparando mi hanno preso di mira occhio dove spari pendevo no le vi mangiamento era impossibile mi stanno sparando cazzo in arrivo ora ma dove vengai già subito sto sopra dato ecco cazzo non facci ne paura guarda dove cazzo spari cazzo in arrivo 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 perché cazzo in arrivo eh i serve una corazza UAP nemico in volo saldo interminario prezzi tornati alla normalità sopra il tetto ti vedo già meglio state perdendo terreno ostile in discesa nell'area occhio in alto uno strusso mi ha sparato rieccomi in pista e restano 25 resta concentrato allora uno in testa a te terra rimanete là non muovete facciate di scendere volando questa cosa non si può andiamo alla fine tutto finito vim via attacco il tiratore arriva il gas qua sta a me contatto qua è passato un ulpo frate no non te l'ho rubata guardate a terra ti mani andato vanno qua dentro ragazzi attacco il tiratore non c'è tempo per riposare coprite no dai la giornata la giornata cazzi in arrivo zona sicura riposizionata mi sento già meglio dovrà questo detto qua stavola in avvicinamento indico la zona bersaglio in avvicinamento il salto a sinistro attenzione giro di gira di scontro sbagliato bravi ma ci manavano quella perché è più semplice ma cazzo è più semplice è più piccola è più piccola è meno tamperabile sono meno 6 sono meno 6 la mappa è già piccola 6,5,4 e Gianni 1 1 6,5,4 e Gianni 1 ha detto nessuno di tutti e 3 riesce a fare più king di me io faccio dire la secce la solo mamma mia hai visto un bullfrog? hai visto un bullfrog? è un bullfrog ora mi la fa fare è un bullfrog? è un bullfrog?